la guerra era finita i tedeschi occupavano la franza e il paese palpitava come un lottatore vinto con le spalle a terra sotto il ginocchio del vincitore da Parigi atterrita, affamata, disperata cominciavano ad uscire i primi treni diretti alle nuove frontiere attraversando lentamente campagne e villaggi i primi viaggiatori contemplavano dai finestrini le pianure devastate e i paesini incendiati davanti alle porte delle case ancora in piedi soldati prussiani dall'elmo nero con la punta in ottone fumavano la pipa a cavalcioni di una seggiola altri lavoravano o chiacchieravano come se avessero fatto parte delle famiglie passando per le città si vedevano interi leggimenti che manovravano sulle piazze e nonostante il rumore delle ruote arrivavano a tratti rauchi comandi gutturali il signor Dubois che aveva fatto parte della Guardia Nazionale di Parigi per tutta la durata dell'assedio andava in Svizzera a raggiungere la moglie e la figlia ma date all'estero per prudenza prima dell'invasione la carestia e le fatiche non avevano affatto diminuire il suo pancione di mercante ricco e pacifico aveva sopportato quei momenti terribili con desolata rassegnazione e amare riflessioni sulla ferocia degli uomini adesso alla fine della guerra mentre si avvicinava alla frontiera vedeva per la prima volta dei prussiani finché avesse fatto tutto il suo dovere sui bastioni e avesse montato la guardia parecchie notti durante le gelide ore della notte guardava con terrore misto a irritazione quegli omaccioni armati e barbuti che se ne stavano in guerra di Franza esattamente come se fossero stati in casa propria era salito da una specie di febbre di impotente patriottismo insieme a quel gran bisogno a quel nuovo istinto di prudenza che da allora non c'ha più abbandonati nel suo scompartimento due inglesi venuti apposta per osservare si guardavano attorno con occhi sereni e curiosi erano tutti e due corpulenti e parlavano nella loro lingua ogni tanto consultavano la guida che leggevano a voce alta per riconoscere con precisione le località che verranno indicate a un tratto durante una sosta del treno nella stazione di una cittadina un ufficiale prussiano salì urtando rumorosamente con la sciabola contro il predellino era alto, stretto nell'uniforme e con una barba che gli arrivava fino agli occhi di un pelo rosso che pareva fiammeggiare mentre i lunghi baffi, in un tono meno acceso svettavano ai due lati del viso dopo averlo attraversato obliquamente gli inglesi cominciarono subito a contemplarlo con sorrisi di curiosità soddisfatta mentre Dua faceva finta di leggere il giornale se ne stavano annecchiato nel suo cantuccio come un ladro di fronte a un gendarme il treno si rimise in movimento gli inglesi continuarono a parlare a cercare il luogo preciso di ogni battaglia a un tratto, mentre uno di loro tendeva il braccio verso l'orizzonte indicando un villaggio l'ufficiale prussiano, stendendo davanti a sé le lunghe gambe e rovesciandosi sulla schiena disse in francese io ho ammazzato tottici francesi in questo fillaccio presso più di cento prigionieri gli inglesi molto interessati chiesero subito oh, come chiamare questa villaggia? il prussiano rispose Farsburg e riprese io ho preso i gialdroni francesi per orecchie e guardava Dubois ridendo orgogliosamente sotto i baffi il treno avanzava attraversando sempre villaggi occupati si vedevano sollati tedeschi lungo le strade sul limitare dei campi in piedi all'angolo delle staccionate o fermi a chiacchierare davanti ai caffè coprivano la terra come cavallette africane l'ufficiale tese la mano se comandare io avrei preso Parigi e bruciato tutto e ammazzato tutti Francia caput gli inglesi per cortesia risposero soltanto oh yeah egli continuò tra frent'anni tutta Europa tutta nostra Prussia più forza di tutti gli inglesi preoccupati non rispondevano più i loro volti ora impassibili ora incorniciati dai lunghi favoriti sembravano di cera allora l'ufficiale prussiano si mise a ridere e continuando a stare sdraiato cominciò a pronunciare parole di scherno sbeffeggiava la Francia schiacciata insultava i nemici prostrati sbeffeggiava l'Austria vinta poco prima sbeffeggiava la difesa canita e impotente dei dipartimenti sbeffeggiava i soldati della guardia mobile l'inutile artiglieria annunciò che con i cannoni catturati Bismarck avrebbe costruito una città di ferro e a un tratto appoggiò gli stivali contro la gamba del signor Dubois che distoglieva lo sguardo rosso fino alle orecchie gli inglesi parevano ormai indifferenti a tutto come se all'improvviso si fossero trovati chiusi nella loro isola lontani dai rumori del mondo l'ufficiale tirò fuori la pipa e guardando fisso il francese disse non ha freste tabacco? il signor Dubois rispose no signore il tedesco riprese fi prego ti andare a comprare quanto treno fermo e si mise di nuovo a ridere ti darò mancia il treno rallentò e fischiò passava davanti agli edifici incendiati di una stazione poi si fermò del tutto il tedesco aprì la portiera e prendendo per il blaccio Dubois andate a fare commissione presto presto un distaccamento prussiano occupava la stazione altri soldati stavano a guardare in piedi lungo i cancelli di legno la locomotiva già fischiava per ripartire allora ad un balzo Dubois si slanciò sul marciapiede e malgrado i gesti del capo stazione si precipitò nello scompartimento vicino era solo si sbottonò il panciotto tanto il cuore gli batteva e ansimando si asciugò la fronte il treno si fermò di nuovo in una stazione e a un tratto l'ufficiale comparve nel riquadro dello sportello e salì seguito a poca distanza dai due inglesi spinti dalla curiosità il tedesco si sedette di fronte al francese e sempre ridendo non avete voluto fare mia commissione Dubois rispose no signore il treno si era rimesso in moto l'ufficiale disse attesso io taglio fostri paffe per caricare la pipa e allungò la mano verso la faccia del vicino gli inglesi sempre impassibili guardavano fisso già il tedesco aveva preso un ciuffo di peli e li tirava quando Dubois con un man rovescio gli alzò il braccio e prendendolo per il colletto lo buttò sul sedile poi folle d'ira con le tempie gonfie e gli occhi iniettati di sangue continuando a serrargli il collo con una mano con l'altra chiusa si misa a tempestarlo furiosamente di pugni sul viso il prussiano si dibatteva tentava di sfoderare la sciabola di stringere l'avversario disteso su di lui ma Dubois lo schiacciava col peso enorme del suo ventre e picchiava picchiava senza tregua senza riprendere fiato senza sapere dove andavano a cadere i suoi pugni scorreva il sangue il tedesco soffocato rantolava sputava denti tentava inutilmente di respingere quell'uomo esasperato che lo stava accoppando gli inglesi si erano alzati e avvicinati per vedere meglio rimanevano in piedi mossi dalla curiosità pronti a scommettere per l'uno o per l'altro dei litiganti e a un tratto il signor Dubois sfinito si tirò in piedi e andò a risedersi senza dire una parola il prussiano non si gettò su di lui tanto era spaventato e stupidito dallo stupore e dal dolore quando ebbe ripreso fiato se non volete darmi soddisfazione con la pistola vi ucciderò Dubois rispose quando volete con piacere il tedesco riprese ecco Taspurco pretenderò patrini tue ufficiali a fare tempo prima che il treno riparte Dubois che ansimava come una locomotiva disse agli inglesi volete essere i miei padrini risposero tutti e due insieme oh yeah e il treno si fermò in un minuto il prussiano trovò due colleghi che portavano le rivoltelle e tutti e due si diressero ai bastioni gli inglesi consultavano l'orologio ogni minuto affrettavano il passo acceleravano i preparativi temendo di perdere il treno Dubois non aveva mai tenuto in mano una rivoltella lo misero a venti passi dal suo nemico gli chiesero siete pronto mentre rispondeva di sì si accorse che uno degli inglesi aveva aperto l'ombrello per ripararsi dal sole una voce ordinò fuoco il signor Dubois sparò a casaccio senza aspettare vide con stupore che davanti a lui il prussiano vacillava alzava le braccia e cadeva a terra stecchito l'aveva ucciso uno degli inglesi gridò un oh vibrante di gioia di curiosità soddisfatta e di felice impazienza l'altro che teneva sempre l'orologio in mano afferrò il signor Dubois per un braccio e con passo ginnico lo trascinò verso la stazione il primo inglese correndo marcava il passo coi pugni chiusi e i gomiti attaccati al corpo un due un due tutti e tre correvano gomito a gomito nonostante le panze simili a tre caricature di un giornale umoristico il treno stava per partire saltarono nel loro scompartimento e a quel punto gli inglesi si tolsero i berretti e agitandoli sopra la testa gridarono hip 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 hurra poi serenissimi uno dopo l'altro tesero la mano destra al signor Dubois e tornarono a sedersi uno accanto all'altro nel loro angolo e tornarono un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti